Cosa puoi fare con i tuoi risparmi? Puoi fare un viaggio o anche due. Puoi acquistare una lampada a forma di gatto per viziare il tuo gatto o uno strumento in più per stancarti meno. O puoi anche iniziare a investire con Crediagricol. Con Cia Smart Advisory non hai commissioni d'ingresso. Esci quando vuoi senza spese e puoi contare sulla competenza del tuo consulente Crediagricol e di Amundi. Con Crediagricol e Amundi. Investire è alla portata di tutti. Crediagricol.